Ciao! Questo breve video nasce con lo scopo di spiegarti quali sono i servizi offerti dall'Unità Special Needs, la struttura all'interno del Politecnico che affianca gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento o disabilità durante tutto il percorso formativo, a partire dal test ingresso fino all'esame di abilitazione. Spesso ci capita di sentire studenti e studentesse in dubbio sulla possibilità concreta di studiare al Poli. Se sei una persona affascinata dalla tecnologia, dalla scienza applicata e dal progresso, hai fatto la scelta giusta. Questa è l'università che fa per te. Determinazione, curiosità, impegno, voglia di mettersi in gioco sono gli ingredienti più importanti, imprescindibili per raggiungere i propri obiettivi. Noi siamo al tuo fianco per garantirti la possibilità di studiare alla pari di tutti, con tutti, nell'università di tutti, perché il Poli è di tutte e di tutti. Come servizio ci rivolgiamo principalmente a persone con DSA o disabilità. Per DSA si intendono la dislessia, la disgrafia, la discalculia, la disortografia e, come sicuramente già saprai, è necessario presentare una certificazione valida, che ti permetterà di sostenere il test ingresso e i successivi esami, usufruendo di misure compensative, tipicamente il tempo aggiuntivo e l'uso della calcolatrice. Quando parliamo di disabilità, intendiamo un impedimento, anche in questo caso certificato, che potrebbe metterti in difficoltà durante la tua vita universitaria, se non opportunamente compensato. Il nostro ruolo consiste proprio nel cercare gli accomodamenti più adatti alle tue necessità, per aiutarti a trovare le strategie più opportune per lavorare al meglio delle tue possibilità. Ecco il nostro staff. Siamo in tre, una squadra piccola ma affiatata. Il nostro lavoro è coordinato da diverse figure istituzionali di altissimo profilo. La vicerettrice per la qualità, il welfare e le pari opportunità, professoressa Claudia De Giorgi, la referente del rettore per la parità di genere, la diversity, professoressa Arianna Montorsi, la referente del rettore per l'iniziativa a supporto dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone disabili, professoressa Daniela Bosia, la diversity disability manager, dottoressa Paola Ghione, che ricopre anche il ruolo di responsabile del servizio Formazione Life, all'interno del quale opera l'unità Special Needs. Un'intera squadra che crede nel valore della diversità e che si adopera affinché tutti e tutte al poli possano studiare in condizioni di uguaglianza, possano crescere come professionisti e contribuire alla costruzione di una società migliore. Crediamo nell'inclusione, nella personalizzazione dei percorsi formativi e nell'uso delle nuove tecnologie, per garantire a tutte e tutti l'esercizio del diritto allo studio e all'autodeterminazione. Siamo convinti che ogni individuo, con le sue particolarità e caratteristiche, possa in questa comunità trovare il suo modo di vivere appieno l'esperienza universitaria, crescendo in competenze e professionalità. Non ti stiamo dicendo che sarà facile, ma che è possibile! Attualmente seguiamo più di 300 studenti e studentesse con DSA e 70 con disabilità, ognuno dei quali ci aiuta a crescere come servizio per costruire una comunità accogliente. Ecco un breve video che ti spiega i servizi offerti. L'unità Special Needs del Politecnico di Torino offre sostegno agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento o con disabilità per tutto il percorso universitario a partire dai test di ingresso, per i quali garantisce la possibilità di usufruire di tempo aggiuntivo e misure compensative. Dopo aver completato l'immatricolazione online, ti basterà prenotare un appuntamento presso lo sportello Polito One to One. L'incontro potrà essere svolto in presenza o tramite Virtual Classroom. Nel corso del colloquio verranno individuate le misure compensative che potrai utilizzare durante gli esami. Potrai concordare una segnalazione da inviare a inizio di ogni semestre ai tuoi docenti, affinché possano supportarti durante lo studio e garantirti l'uso delle misure compensative durante gli esami. Potrai rivolgerti allo sportello Polito One to One tutte le volte che avrai bisogno di una consulenza per organizzare lo studio, fare un bilancio della sessione esami, pianificare il tuo semestre, richiedere aiuto per la preparazione di qualche specifica materia. Per prendere appuntamento apri un ticket dalla tua pagina personale sul sito internet didattica.polito.it slash specialneeds slash it slash presentazione trovi tutte le informazioni relative al servizio. Per approfondimenti consulta le FAQ. Ricapitolando, potrai appoggiarti a noi per tutto il tuo percorso a partire dai test d'ingresso. Ti aiuteremo a trovare le giuste misure compensative e il ritmo di lavoro più adatto a te. Potrai vivere il Politecnico con i tuoi ritmi e con maggior serenità, contando su un servizio che ti aiuterà a dialogare con il corpo docente, a portare a termine le pratiche burocratiche, a strutturare lo studio. Presso la sede centrale ci sono spazi dedicati per poter incontrare il personale del servizio, studiare con il supporto di tutor, riposarsi tra una lezione e l'altra, per vivere il poli a 360 gradi. Per conoscerci meglio, ti offriamo la possibilità, in qualunque momento dell'anno, di fissare un appuntamento, a partire dal quale potremo costruire assieme il tuo percorso. Ecco il nostro sito web. Per contattarci apri un ticket. Ti aspettiamo al poli!